Buongiorno, Orchideria Manosoro, Orchideria è una medicina per l'anima. Ricordo sempre il nuovissimo libro, Orchidia storia e personaggi, quarta edizione, 572 pagine, costa 25 euro, trovate qui l'Orchideria su Amazon. Ha tre grandi pregi, costa poco, semplicissimo, l'ho scritto io, compratelo e fate delle recensioni, possibilmente positive, su Amazon. La pianta di oggi è l'Uncidium Papilio, l'ex Uncidium Papilio, perché adesso si chiama Psicopsis. Allora, è una pianta fantastica, con una fioritura lunghissima, ha una storia bellissima ed è una delle piante che tutte le collezioni non deve mancare. Allora, questo è un libro del Papilio che si chiama Psicopsis mariposa, perché appunto gli Uncidium di questo gruppo qua del Papilio, che sono quattro specie, Papilio, Crameriano, vestigiano messandere, sono stati tolti dal genere Uncidium e si è stato creato un genere per loro che si chiama appunto Psicopsis, che vuol dire parpalla. Questa è la forma classica del Psicopsis papilio, questa è la forma che va tanto di modo adesso, è la varietà special, che è una mutazione genetica, praticamente è un mostro genetico. Le tre antenne si sono trasformate come i due sepali laterali. Allora, però adesso tutti vogliono quello lì, perché è diventato più grosso, fa fiori più grandi. Una caratteristica del Papilio è quella di essere praticamente in natura in fiore tutto l'anno, mentre da noi fiorisce grossomodo da maggio, giugno, fino a novembre, perché dopo quei giorni corti si ferma, perché dietro il fiore c'è il bocciolino, vedete questo qua? Quando il fiore cade, il bocciolino si sviluppa e prepara l'altro bocciolo. Qui si vede bene che c'è, questa qui è la forma alba, è quello tutto giallo. Vedete? Questo qui è il bocciolino. Quando cade il fiore, sia orco o cane, si apre il bocciolo, contemporaneamente prepara l'altro bocciolo che si si trova col fiore lì e basta. Un'altra caratteristica molto interessante è che i rami possono fiorire per 5, 6, anche 7 anni. Per cui è facile trovare in giro adesso questa è una pianta con tre rami, perché i rami, poi le piante fioriscono tutti i rami, i rami nuovi, i rami vecchi appunto per 6, 7 anni. Tutte le piante, gli anni e le piante diventando più grandi fanno più rami e si arriva a vedere le piante, magari ci sono in giro appassionati che hanno piante con una decina di rami, che fioriscono tutti. E poi la cosa più bella di tutte è la storia, perché è una storia bellissima, non c'è di un papiglio quello che ha dato a rigere, le 1800 all'orchimania, una febbre collettiva in Inghilterra che ha contagiato tutti i grandi signori inglesi che facevano una gara che verrà a chiedere più belle pagando le cifre da capogiro. Le orchidee che arrivavano dalle zone tropicali facevano viaggi che duravano anche anni, poche arrivavano vive, di queste poche le più belle venivano vendute all'asta a cifre da capogiro. Si parla in questo periodo qua dell'orchimania di un'orchidea, un'odontoglossum crismum, che è stato venduto all'asta paragonandole ai soldi di oggi circa un milione di euro, cioè due miliardi di vecchia lire per una pianta. Allora la storia dell'orchimania è questa qui, che William Spencer Cavendish, che era un ricchissimo inglese, lui era il sesto duca del Devonshire, non si era mai interessato alle piante e ai fiori, ma una mostra, ha visto l'oncidio e un papiglio e lì si è appassionato dell'orchidea, ha cominciato a spendere un sacco di soldi per le orchidee e ha coinvolto, come in una gara, tutti i suoi colleghi ricchissimi, a chi aveva l'orchidea più bella, è nato così in questo periodo dell'orchimania, che veramente facevano paziente per le orchidee. Nel 1834 Cavendish ha costruito nel suo giardino a Chatsworth, doveva il castello di Chatsworth, ha costruito tra le altre una serra di 4.000 metri quadri, nel 1834, era larga 44 metri, lunga 91 e alta 18 metri, come un palazzo di 6 piani, ed era riscaldata da otto caldaie e abbiamo costruito una ferrovia con un treno che portava il carbone alle caldaie. Quando la regina Vittoria ha visitato il castello di Chatsworth, la grande serra delle orchidee, per l'occasione il parco e la serra, perché era una pronta serata invernale, sono state illuminate da più di 10.000 lampade. Cosa facevano allora? E questo è stato poi questo colore qui dell'orchimania, perché poi tante orchidee hanno una storia, quelle che hanno una storia hanno qualcosa di più. Ecco, l'ucidio bapiglio si coltiva un po' come le palenopsis, caldo d'inverno, ombro d'estate, non vanno mai... d'inverno è meglio non bagnare mai le foglie, evitare che si fermi qualche goccia d'acqua nella scena delle foglie, per cui d'inverno è evitato di bagnare le foglie, se possibile. E avrete una pianta con una fioritura fantastica, se poi mettete l'illuminazione artificiale è praticamente fiorita tutto l'anno. Viene dall'America centrale, in tutta l'America centrale, soprattutto sulla costa dell'Atlantico, ci sono anche nelle isole, nei Caraibi, l'ucidio bapiglio e l'orchidea dell'orchimania. Ok, a domani!